Questo è il risultato che noi volevamo, il risultato che abbiamo ottenuto, fermo restando, che non sono mutate le nostre critiche all'articolo 33, allo sblocca Italia, fermo restando la nostra idea, che è molto diversa da quella che leggo in queste ore, da parte di qualcuno che dice che il sindaco ha cambiato idea, ci potete dare atto che noi non abbiamo cambiato idea, sono cambiate le modalità con cui altri si sono rapportati con il Comune di Napoli ed è cambiato il Presidente del Consiglio.